I malati sono dei privilegiati per la Chiesa, per il cuore sacerdotale, per tutti i fedeli. Non sono da scartare, al contrario, sono da curare, da acudire, sono oggetto della preoccupazione cristiana. Nelle piaghe degli ammalati, nelle malattie, che sono impedimenti per andare avanti nella vita, c'è sempre la presenza di Gesù, la piaga di Gesù. C'è Gesù che chiama ognuno di noi a acudirli, a sostenerli, a guarirli. Grazie per la visione!